Da Dieppe alle Havre la costa si presenta come una scogliera continua, alta quasi un centinaio di metri e ripida come un muraglione. In qualche tratto questa linea gigantesca di rocce biancastre si abbassa improvvisamente e un sottile valloncello dai ripidi pendii coperti da un sottile strato di prati e di arbusti marini discende dall'altopiano coltivato verso una spiaggia di ciottoli dove termina con una frana simile al letto d'un torrente. La natura ha creato questi quei valli, i temporali vi hanno aggiunto le frane ritagliando quel che restava della scogliera, scavando sino al mare il letto delle acque che gli uomini utilizzano come passaggio. In qualche caso un villaggio era annicchiato in quei valloni dove si ingolfa il vento d'alto mare. Ho trascorso l'estate in una di queste insenature della costa, alloggiato in casa di contadini, con vista sul mare, di modo che dalla finestra vedevo un grande triangolo azzurro inquadrato dai pendii verdeggianti del vallone e qualche volta punteggiato dalle vele bianche che navigano a largo sotto il sole cocente. La stradina che portava al mare seguiva il fondo della gola ed improvviso sprofondava tra due pareti di roccia argillose, diventava una specie di profonda rotaia prima di sboccare su una bella distesa di ciottoli mossi, arrotondati e lisciati dalla secolare carezza delle onde. Questa gola viene chiamata «Il salto del pastore» ed ecco il dramma che ha dato origine a questo nome. Raccontano che nei tempi andati questo villaggio era governato da un giovane sacerdote, austero e violento. Era uscito dal seminario con l'animo pieno di odio verso quelli che vivono secondo le leggi della natura, anziché secondo le leggi di Dio. Era inflessibilmente severo con se stesso e quindi mostrò anche verso gli altri una intolleranza implacabile. Una cosa su tutte gli ispirava collera e ribrezzo. L'amore Se fosse vissuto in città, in mezzo a persone civili raffinate, capace di dissimulare dietro i delicati veli del sentimento e della tenerezza, gli atti brutali richiesti dalla natura, se avesse ascoltato nell'ombre di eleganti navate la confessione di peccatrici profumate, i cui errori sembrano più lievi nell'alone di grazia e di idealità che avvolge cadute amplessi, forse non avrebbe provato le stesse folli repulsioni, gli stessi incontrollati furori che provava di fronte all'accoppiamento l'aido degli straccioni nella fanghiglia d'un fossato sulla paglia di un granaio. Giudicava dei bruti, quelli che non conoscevano l'amore e si congiungevano soltanto in modo animalesco. Li odiava per la lubricità dell'anima loro, per il sozzo appagamento degli istinti, per la ripugnante gaiezza con cui persone già vecchie parlavano ancora di immondi piaceri. Forse suo malgrado era torturato dall'angoscia di desideri insoddisfatti e oscuramente sconvolto dalla lotta tra un corpo ribelle e la mente casta e dispotica. Tutto quel che riguardava la carne lo indignava, lo metteva in uno stato di estrema agitazione e i suoi sermoni violenti, pieni di minaccia e di terribili allusioni, facevano sorridere le ragazze e i ragazzi che si scambiavano sguardi attraverso la chiesa, mentre i contadini con la giubba turchina e le contadine con lo scialle nero dicevano tra loro, all'uscita della messa e volgendosi verso la casupola, da cui saltava verso il cielo un esile filo di fumo bluastro, «Non scherza mica su certe cose, il signor curato!» Una volta assadirò tanto da perdere il lume degli occhi e per niente. Stava andando a visitare un infermo. Era appena entrato nell'aia quando scorse un gruppo di ragazzini, quelli della fattoria e altri del vicinato, accoccolati vicino alla cuccia del cane. Stavano guardando con curiosità qualcosa, immobili, con un'attenzione muta e concentrata. Il sacerdote si avvicinò. Era la cagna che partoriva. Davanti alla casetta cinque cuccioli si aggrovigliavano intorno alla madre che li leccava con tenerezza e nel momento in cui il curato allungava la testa sopra quella dei ragazzini fece la sua comparsa un sesto piccino. Tutti i monelli allora si misero a gridare di gioia e a battere le mani. «Un altro! Un altro!» Per loro era un gioco, un gioco naturale, in cui non c'era nulla d'impuro. Contemplavano quella nascita come avrebbero guardato cadere le mele da un albero. Ma l'uomo in tonaca fu pervaso dall'indignazione e fuori di sé alzando il grande parapioggia turchino cominciò a picchiare i bambini. Scapparono a gambe elevate e allora lui, solo davanti alla cagna inerte, la colpì roteando le braccia. Incatenata com'era, la bestiola non poteva scappare e si dibatteva, gemendo. Allora il prete le salì addosso, la schiacciò sotto i piedi, le fece partorire l'ultimo cucciolo e poi a calci la finì. Abbandonò quel corpo sanguinante in mezzo ai piccoli che cercavano già piangendo le mammelle. Di solito faceva delle lunghe passeggiate da solo, con passi veloci e l'espressione crudele. Una sera di maggio, mentre tornava da un'escursione e seguiva la scogliera verso il villaggio, fu sorpreso da un furioso temporale. Non c'erano case in vista, ma solo l'arida insenatura che la pioggia battente crivellava di gocce pungenti, come frecce. Il mare in tempesta srotolava grandi onde schiumeggianti e grosse nuvole scure si addensavano all'orizzonte, aumentando l'intensità del temporale. Il vento fischiava, muggiva, distendeva sul suolo i germogli e scuoteva il prete, fradicio di pioggia, gli incollava tra le gambe la tonaca, gli frastornava le orecchie col suo rombo e anche il cuore in tumulto. Si tolse il copricapo e protese la fronte verso il temporale, mentre si avvicinava lentamente alla discesa verso il paese. Ma lo raggiunsero raffiche tanto potenti da impedirgli di andare avanti. All'improvviso scorse, vicino al pascolo, la capanna mobile di un pastore. Era un riparo ed egli vi si diresse di corsa. I cani, tormentati dall'uragano, non si mossero al suo approssimarsi e così poter aggiungere la capanna in legno. Una sorta di nicchia è stata su ruote che i custodi di Greggi trascinano durante l'estate da un pascolo all'altro. Sopra uno scalino la bassa porta era aperta e lasciava vedere la paglia che ricopriva l'interno. Il prete stava per entrare quando si avvide che nella semi-oscurità c'era una coppia di innamorati avvinta in un amplesso. Allora, bruscamente, chiuse la porta a tettoia e la ferrò dall'esterno, poi attaccandosi alle tirelle, piegando il corpo smagrito, tirando a forza come un cavallo e ansimando nelle pesanti vesti nere, prese a correre, trascinando verso il ripido dirupo, il dirupo pericoloso, quella coppia di ragazzi che aveva sorpreso avvinghiati l'uno all'altra, che picchiavano sugli assiti della capanna e che senza dubbio pensavano si trattasse dello scherzo di un passante. Quando fu un cima al dirupo abbandonò la capanna montata su ruote che cominciò a rotolare sul pendio inclinato. Precipitava con velocità crescente, trascinata in una pazzesca caduta sempre più in fretta, a balzi, barcollando come una bestia cieca, urtando il terreno con le stanghe. Un vecchio mendicante, rannicchiato in un fossato, la vide passare di slancio sulla sua testa e intese gli urli spaventosi provenienti da quella scatola di legno. All'improvviso si sfilò una vuota strappata dalla violenza di un urto. La capanna si abbatte su un lato e si rimise a precipitare come una palla, come una casa sradicata dalle fondamenta ruzzolerebbe dalla cima ad un monte. Infine, arrivata sull'orlo del burrone, fece un gran balzo descrivendo una curva e caduta nel fondo si ruppe come un uovo. Raccolse le due amanti maciullati, stritolati, con tutte le membra rotte, ma sempre avvinghiati, le braccia legate al collo, nel terrore come per la volutà. Il curato rifiutò di far entrare in chiesa i loro cadaveri e non benedisse neanche le bare e la domenica dal pulpito parlò con accanimento del settimo comandamento divino minacciando ancora quei due innamorati col braccio levato in alto come per una misteriosa vendetta e citando il terribile esempio dei due disgraziati uccisi mentre commettevano peccato. Due gendarmi lo arrestarono appena uscì dalla chiesa. Un doganiere al riparo della sua garitta lo aveva veduto. il prete venne condannato ai lavori forzati e il contadino a cui son debitore del racconto concluse con gravità signore io l'ho conosciuto io era un uomo tutto ad un pezzo ma odiava l'amore fisico grazie a tutti